Devo cambiare il disco? Ragazzi abbiamo già cambiato il disco Non ho fatto nulla di continuare Adesso Carlo sta preparando la macchina Non ho fatto nulla di continuare 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 Perché dobbiamo salire Non ho fatto nulla di continuare Non ho fatto nulla di continuare Non ho fatto nulla di continuare Non ho fatto nulla di continuare